A Vasto è partito il Mennabis. Questa mattina primo consiglio comunale a seguito delle elezioni dello scorso ottobre vinte nettamente al ballottaggio dalla centrosinistra. Presenti in aula tutte le principali istituzioni cittadine per quello che il sindaco di Vasto ha definito come Giornata sacra, quella dell'insediamento che consacra appunto il primo consiglio comunale. Il consiglio che darà vita a 5 anni di amministrazione attiva, 60 mesi di duro e gran lavoro a favore della città. Un ringraziamento di cuore a tutti i consiglieri comunali, assessori, al signor prefetto, al procuratore della Repubblica, al presidente del tribunale, alle autorità civili e militari presenti, ai consiglieri regionali, tutti per fare squadra per il bene di un territorio. Nel pomeriggio ci sarà l'elezione del presidente del consiglio, si va verso l'elezione del presidente più giovane che la città di Vasto abbia mai avuto. Abbiamo indicato Marco Marchesani, diciamo che lui ha condiviso per primo questo percorso per la sua voglia di fare, per la sua voglia di imparare e di dedicarsi alla città, alla politica, all'amministrazione pubblica. 26 anni, indubbiamente se accadrà questo e riusciamo a fare sintesi su questo ruolo di arbitro, di mediatore, di sintesi, regaleremo alla città il presidente più giovane della storia.